Veronica Lisotti, allenatrice, giornalista sportiva, anche ex volto di Rossini TV, addosso alla maglia Never Give Up, che è il risultato di un lungo percorso, tortuoso ma importante, che è sfociato in una campagna, in una campagna informativa e a sostegno di una buona caula. Esatto, Never Give Up è la campagna solidale che ho creato, assieme a Retro Luteghe di Riccione, lo showroom che ha creato queste magliette che potete vedere e soprattutto insieme all'Aile di Piesio e ringrazio il presidente Massimo Sierra per il suo contributo. Queste sono magliette che generano un ino alla vita. Il mio percorso nel 2021 purtroppo è stato interrotto da un linfoma bigray aggressivo, sono stata curata presso l'ospedale di Muraglia dall'equip del dottore Giuseppe Bisani, che ringrazio di cuore, di ematologia e anche radioterapia. E alla fine di questo percorso ho pensato di creare qualcosa non solo per me ma anche per gli altri, diciamo, un nuovo mood di speranza, di voglia di vivere, di voglia di credere, di anche cadere nella vita perché capita, però comunque rialzarsi sempre. E così è nata Never Give Up, insomma, questa maglietta che potete acquistare nello showroom di Retro Luteghe di Riccione oppure attraverso la mia pagina Facebook o Instagram, oppure potete recarvi direttamente all'Aile di Piesio. Ovviamente il ricavato andrà proprio alla ricerca, quindi all'Aile di Piesio. E a fine mese, poi a fine maggio, faremo un'asta benefica perché infatti abbiamo la fortuna di avere alcuni testimonial che hanno sposato la nostra causa, di cui siamo davvero molto molto felici e che ringrazio davvero di cuore come tutte le persone che stanno acquistando le nostre magliette. E quindi continuate a seguirci ovviamente sui nostri social e poi ovviamente Never Give Up sempre. Quindi non vogliamo mai nella vita, nelle sfide di ogni giorno. Io la mia partita l'ho vinta, però cerchiamo insomma tutti i giorni di vincere ognuno di noi nel nostro piccolo, la nostra partita. Molto gratificante devo dire, mi sento molto onorato di aderire a questa campagna della Veronica. Una ragazza speciale che io già conoscevo da tempo, ma chi è che non la conosce la Veronica, mi è entrata nel cuore quando mi ha chiesto di fargli una t-shirt per lei perché è stata molto brava che ha vinto la sua battaglia, per me è stato onore fargliela. E poi ci è venuto in mente di fare attraverso questa maglia una bella raccolta di beneficenza in favore dell'Aldi Pesaro e da lì è nato tutto e ci stiamo veramente impegnando per far sì che tantissime persone abbiano il loro contributo che è importante per la ricerca dell'Aldi Pesaro e del Presidente Sierra. Ecco qua.